Per me esiste solo Rambo. Rambo? Perché? Beh, è ovvio. È l'originale. Cioè Sigal e Van Damme sono solo imitazioni da quattro soldi. Io lo ammiro molto perché ha avuto il buon senso da smettere quando vinceva. Non sono d'accordo. A seconda della serie mi sarai fermata. Tesoro Rambo, non Rambo. Poeta, francese, morto. Sto solo cercando di cambiare argomento prima di crollare addormentata con la faccia nel piatto. Allora, tu pensi che un artista dovrebbe smettere a 18 anni? No, ma se dovrebbe avere abbastanza buon senso da smettere quando si è dato il meglio di sé. Non vorrei fumare quello, vero? No, questo lo mangio.